Siamo onesti, coltiviamo e lavoriamo le nostre verdure in modo sostenibile e poi le mettiamo nella plastica. C'è un altro modo? La Valle degli Orti, verdure buonissime, in buste riciclabili a base di carta e con emissioni ridotte. La Valle degli Orti, 100% la scelta naturale. Hai molti vestiti da vendere ma non hai il tempo di farlo? Prova Vinter. Con l'app Vinter vendi velocemente quello che non vetti e trovi anche i vestiti e gli accessori più trendy a ottimi prezzi. Non pago commissioni per vendere, quindi quello che guadagno è tutto mio. In pratica svuoto l'armadio e mi riempio le tasche. Vendere è facile. Fai una foto, la carichi su Vinter e vendi ad altri iscritti alla community, così recuperi un po' di quello che hai speso per il guarda roba. Vinter. Scaricala qua anche tu. Non lo metti? Mettilo in vendita. Ragazzi, caffè? Grazie, dopo ho mangiato il cibo. Nuova macchinetta a Borbone, eh? Così il caffè al 100% è il frangli. Graciata, la bottino è l'umido. E la busta fa nella gazzola. Continua il cibo della gazzola, invece. Sono sempre di Bambu. Ma sul caffè la mamma di Ciclà o ce l'amma bella? Caffè Borbone, amico della natura. È buono. Anche perché se non era buono. Borbone, la scelta giusta per un mondo migliore. È come se avesse un cactus in gola. È come avere la gola in fiamme. I mal di gola non sono tutti uguali. Da Neoborucillina, un rimedio per ogni esigenza. Primi sintomi? Gola infiammata o mal di gola dei bambini. Neoborucillina, esperto della gola. Cos'è che ti fa andare lontano? È la voglia di scoprire nuove direzioni? O il piacere di percorrerle insieme? È l'energia che hai dentro? O quella di chi ami? Preparati alla tua prossima avventura all electric con iWays U5. La strada è quella di sempre. Nuova iWays U5. Your way. Just electric. Scopri lei in concessionaria e su iWays.it. Mi chiamo Mohamed. La mia frase preferita è continuare sempre a lottare. La mia sorella è nata con disabilità, che è una cosa difficile. I miei genitori sono molto contenti perché riesco ad aiutarli economicamente. una grande emozione, un'altra per essere con l'Eleza, un tema di spizio, un cuore grande. il passato non dimentica. del passato non dimentica. questa sera, 21 e 20. Rai Prego. Rai Scuola parla inglese. con un'offerta di programmi in lingua dedicata ai diversi livelli di apprendimento. le aspettazioni cambiano. Una proposta a 360 gradi con contenuti distinti per genere. Mad at I not. And I'm very sure why not dream. e per obiettivi formativi. Let's try to pronounce some words together. Antique. Just take your time, ok? Rai Scuola speaks English. Il tuo appuntamento con l'inglese su Rai Scuola. Non dimentica. Gar proactive дело, vai dar da pedrasPerini, Cerundo da Unite dei Nicom!